e fuori come usa sto cazzo di video, comunque fate proprio schifo queste pippe altra sconfitta in casa con la Lazio, proprio una merda, proprio zero siete fate schifo al cazzo, meritato un cazzo partita tutta questa, colpa tutta la società, i giocatori tutto qua, la Higgins salva nessuno, oltre il caso i Cardi qua nel sempre da buttare la croce i Cardi, quel deficiente viene, vedo che mi avete rotto il cazzo pure con la Lazio, ho perso che è una squadra che sta a giugare il traguardo finale, diretta concorrente per la zona della Champions League ma sta a scartare tutto questo cazzo di partite è l'ennesimo bonus perso, non c'entra un cazzo c'è i Cardi, non ce ne frega un cazzo vedo che hanno i Cardi rientrerà, sicuramente rientra, ma alla fine quanti cazzo di bonus abbiamo perso, l'ennesimo bonus, che ha vincito il derby, poi li perdi un'altra volta l'hai fatto un cazzo, la viene paradossalmente se è giocata l'Inter c'abbà qualcosina creata, ma tu non può da giù aperti 1 a 0 con un cross di merda con un cross di derrotti coglione ha sistemato questa cazzo di fotocamera è un po' così, con questo cazzo di cross buttare al centro e nessuno li piglia solo chi cazzo ci va va a dire a marcar, si mettono a disposizione a zona un gol della Madonna, Lazio, 3 tiri in porta va, 3 tiri in porta, rompe qua sono 3 di numero, 3 ha segnato un gol di merda lui ha i gol di screen armagnato se ci fosse stato l'autario ieri sera forse o i Cardi avremmo vinto, ma con questi vicini questi inutili, i contratti, gli inserimenti questo è rientrato a 2-3 partite se tutto va bene, tanto alla fine stagione finisce questa telenovela di merda perché avete rotto il cazzo al primo e all'ultimo in cazzo a Roma è diversa la situazione perché l'anno è colpa di tutti quanti non solo tra l'allenatore l'allenatore, il volaccio all'unico non c'entra niente, sono i giocatori quando vengono sconfitte, pareggitori questo è sempre l'atteggiamento dei giocatori mentale, fa la differenza continuiamo così, facciamo schifo crolliamo in classifica se pippe, mi avete rotto il cazzo pure con la Lazio se la ziali del merda hanno fatto vincere pure questi, se pippe vanno a pensare di scrivere ma a sta cazzo domani vanno a pensare che cazzo ne pensate comunque la Riccardi la cosa è da risolvere a breve si farà un punto trattato un zoning facendo gli incontri bisogna rimodellare sta cazzo di suazione sapete che cazzo per lasciare un posto di iscrivervi al canale